Su internet si possono fare gli acquisti sui siti più disparati, ma siete sempre sicuri che siano oggetti legali in Italia ad acquistare? Secondo me no, seguitemi per capire da quali oggetti è bene tenersi alla larga. Sicuro che è legale? Ah, legale, illegale, che termini obsoleti. Internet è ormai alla portata di tutti e non serve sicuramente un computer per poter fare i nostri acquisti online. Infatti dal cellulare, con la nostra carta di credito, banco, materi caricabile che sia, possiamo acquistare su Amazon, AliExpress, Ebay e tantissimi altri siti sparsi per il web. Ma lo sapevate che non tutti gli oggetti che si trovano su internet possono essere acquistati se ci troviamo in Italia oppure non possono essere posseduti proprio perché abitiamo in Italia? Ecco, ho stilato una classifica dei nove oggetti che mi sono venuti in mente, ma sicuramente ce ne saranno tantissimi altri, che non si possono o acquistare o possedere se ci troviamo in Italia. Partiamo dalla cosa più ovvia, ma non così ovvia, come il tirapugni che si può trovare in vendita su Amazon come su Ebay nelle più svariate forme e dimensioni e soprattutto ce ne sono da tutti i prezzi. Ma per la legge italiana questo viene considerato una vera e propria arma. No, non ci va al porto d'armi per acquistarlo, ma non si può portare fuori dalla propria abitazione. Anche il settore farmaceutico sta esplodendo online, infatti ci sono tantissime farmacie che spediscono i farmaci direttamente a casa del cliente, ma la legge italiana in questo è molto chiara. Infatti le farmacie che vendono i propri prodotti su internet possono vendere solo quelli acquistabili senza la ricetta, ma tanti aggirano il problema acquistando questi farmaci in Inghilterra oppure da farmacie sparse per l'Europa dove è legale l'acquisto di un determinato farmaco senza la ricetta. Il problema è quando arriva in Italia. Se la dogana lo ferma e scopre che è un farmaco che in Italia ha bisogno di una ricetta, oltre al sequestro ovviamente del pacchetto, si può incorrere in una multa molto salata. Incredibile ma vero, acquistare semi di canapa anche online è consentito dalla legge. Infatti, oltre a trovarli nei classici negozi adibiti proprio alla vendita di questo materiale, si possono trovare in moltissimi siti web ed è permesso perché i semi sono semplicemente semi e non contengono nessun principio psicotropo attivo. Ma attenzione a non farli germogliare. Perché? Perché se si fanno germogliare si può andare incontro ad una sanzione amministrativa, proprio come chi è sorpreso a fumare una canna. Sembrerà un'assurdità, ma comprare cellulari, tablet e computer da un privato che vende questi oggetti a prezzi bassissimi sia nuovi che usati è reato. Già perché incorro in due principali problematiche. La prima si chiama incauto acquisto. Quando acquisto un oggetto da un privato, appunto magari su subito, che vuole solo lo scambio a mano per pagamento in contanti e magari è l'ultimo iPhone uscito dal valore decisamente fuori mercato perché me lo sta vendendo a una sciocchezza. In questo caso magari il cellulare risulta rubato e io ho appunto fatto un incauto acquisto. Cioè non mi sono informato sul valore di mercato, pensavo di far l'affare della vita quando in realtà non ho preso tutte le dovute precauzioni per fare un acquisto in sicurezza. E in questo la legge non ammette ignoranza. Ma peggio ancora, se sono consapevole che l'oggetto è rubato, perché in questo caso si passa direttamente alla ricettazione. Quando si parla di dati personali nel 2021 si sa che stiamo parlando di un argomento molto serio che sta particolarmente a cuore alla legge italiana. Infatti nell'ultimo periodo si è sentito molto parlare del furto dei dati di O-Mobile che ha scatenato un vero e proprio polverone in tutta Italia. E purtroppo non c'è bisogno di andare sul dark web per fare questo tipo di acquisti di mail, numeri di telefono o nome e cognome di una persona. Ecco, in questo caso però è bene sapere che se un utente ha dato consenso a un'azienda che poi magari per qualche motivo ha chiuso dell'utilizzo dei propri dati ha dato il consenso a quell'azienda e non si possono comprare pacchetti di dati che ad esempio si trovano tranquillamente anche su Telegram. Sarebbe fantastico possedere un set da scassinatore per entrare in casa se dimentico le chiavi. Beh, tutto questo è possibile ce ne sono tantissimi in giro in vendita per il web ma la legge italiana è molto chiara Possederlo e tenerlo in casa? Sì Portarlo in giro? No Perché se si viene fermati dalle forze dell'ordine e non si ha un valido motivo per averlo proprio in giro scatta la denuncia e scattano accertamenti. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e tanti altri erano e sono dei miti ancora tutt'oggi con i loro corpi super muscolosi e super allenati e tanti allora come anche oggi sognano appunto di avere un corpo del genere ma loro potevano avere una marcia in più che noi in Italia non possiamo avere ovvero gli steroidi. Già perché in America come in tantissimi altri paesi la vendita e l'uso degli steroidi è permesso mentre in Italia è assolutamente vietato dalla legge sia per chi fa bodybuilding ma anche per chi ne farebbe un uso strettamente personale. Chi infatti acquista questi oggetti e se li fa arrivare dall'estero rischia grosso addirittura il reato di ricettazione. Secondo voi sarà possibile acquistare delle banconote false perché detta così sa tanto di illegale ma la legge lo permette. Eh sì perché acquistare delle banconote false per giocarci con gli amici la sera a poker o qualsiasi altro gioco che comporti dell'uso delle banconote tranne il Monopoli perché lì le banconote ricordiamo ci sono già ecco in questo caso la legge italiana lo permette è una pratica legale. Cosa illegale però da fare è andare a fare poi degli acquisti con queste banconote perché abbiamo appunto la consapevolezza che sono delle banconote false. In alcune città che non sono molto sicure tanti optano per l'acquisto del famoso spray al peperoncino che è di libera vendita in molte tabaccherie ma vorrebbero anche portarsi dietro un taser che si trova in parecchi siti online proprio per la difesa personale ma qua la legge italiana è molto chiara non è possibile acquistare un taser per poi portarselo in giro per difesa personale tenerlo a casa? Sì portarlo in giro assolutamente no altrimenti si rischia grosso Bene ora conoscete 9 oggetti che magari avete visto in giro per la rete e non sapevate che erano illegali da acquistare oppure legali da acquistare ma con alcune restrizioni ma ve ne vengono in mente altri? Se sì scrivetemeli qua sotto nei commenti magari potrebbero essere utili anche a qualcun altro Ehi il video non è finito qua qui ai lati troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento venerdì alle 14